Le buone notti di Montelabate, i tre appuntamenti proprio qui nel comune di Montelabate, dislocati su tutto il territorio comunale, che si svolgeranno nel mese di luglio. Iniziamo il 16 luglio con Paolo e Francesca alle 21.15 e sarà qui proprio nello spazio del castello di Montelabate. Venerdì 23 luglio, sempre alle 21.15, l'ultimo sorriso di Beatrice ad Osteria Nuova. E infine, venerdì 30 luglio alle 21.15, Ulisse senza ritorno alla Psella, nel territorio comunale di Montelabate, che abbraccerà questa manifestazione che è mancata purtroppo nel 2020, ma che torna con la sua grandissima voglia di comunicare cultura, di comunicare bellezze del territorio e comunicare soprattutto la voglia di stare insieme. Quest'anno, dopo un anno di interruzione a causa del coronavirus, rincominciamo le buone notti, queste serate che hanno lo scopo di allietare, di rendere più tranquille le persone, con un po' di musica e anche con dei racconti. E proprio dal castello iniziamo la prima serata che si svolge il 16 luglio. Partendo, infatti, la prima serata dal castello di Montelabate, poi ci trasferiamo nella frazione di Osteria Nuova, anche lì un punto storico dove c'è stato tutto il discorso della linea gotica, per poi terminare in un posto bellissimo che è il nostro Farnito. Purtroppo, effettivamente, il comune di Montelabate, a causa della pandemia, è stato colpito fortemente. Abbiamo avuto tante persone che ci hanno lasciato e tante che si sono contagiate. Ma noi, proprio per questo motivo, abbiamo deciso quest'anno di ripartire, ripartire per dare speranza alle persone, per lasciarci tutto questo alle spalle. E quest'anno, appunto, come si ricordava già, sarà un'edizione particolare in cui da guida in questo viaggio sarà il sommo poeta. Questo anno particolare a lui dedicato, abbiamo pensato di farci guidare da Dante. D'altra parte, chi meglio di Dante può, in qualche modo, guidarci alla riscoperta della nostra terra, della nostra Italia, della nostra storia e anche, direi, della nostra umanità. E allora si partirà proprio da qua, da questo castello di Montelabate, venerdì 16 di luglio, con un appuntamento importante, un appuntamento con un invitato speciale che più volte, anche le Buonennotti, hanno avuto modo di ospitare. E sarà una serata che avrà per protagonista, appunto, Umberto Piersanti, che con una conversazione ridarà vita, appunto, al canto, a uno dei canti, diciamo, così, più affascinanti, più amati, forse più conosciuto dell'intera commedia, il canto quinto dell'Inferno con la vicenda del tragico amore di Paolo e Francesca. Come sempre ci sarà della musica che accompagnerà queste serate e sarà quest'anno una musica particolare, una musica scelta con delle sonorità antiche, medievali, proposte da dei musicisti della nostra terra, della nostra zona, insomma.